Oggi aggrapparemo il bot opening, raga Oh! È morto il telefono Oggi in un nuovo bot opening Prossimo Che sfiga che ho Ma come? Minimo 100 like e faremo un nuovo bot opening Ciao 100.000 per fare altri bot opening Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati con un nuovissimo episodio della reazione alle vostre clip Episodio numero 59 E quindi partiamo subito Allora, rapina, in una di quelle mappe un po' ambigue Non so chi mi ha mandato la clip ma forse lollo Vediamo che ci combinano Non so perché ma come il presentimento che qua le casse Dato che gira e rigira sempre così sono le clip qua Rimangano con pochissima vita Qua c'è qualche effetto a caso che ha messo lui Veramente molto utili Per ora possiamo notare che i nostri amici azzurri stanno perdendo malamente 68, 10, 5, 4, 3, 2, 1 Intanto l'ha ancora 40 E in teoria vincono Lo dizzo io Attenzione perché non è così scontato ancora Ma Ron è fermo Ron 12 non vuole prendere la cassa Perché mette questi effetti a caso? Ron 12 che ha dato di otomira E qua l'ultimo Ma guardiamo raga perché il colpo di gesto è proprio Cioè bastava un decimo di secondo anche meno Prossima clip abbiamo Gix, Simone 08 che non lo vediamo Dove? Ah eccolo, eccolo qua Edgar Sono 1 a 1 Qua potrebbe fare una bella dribbla forse Più o meno Sì ce l'ha Prende la palla Avanza Va bene il chilling più totale Solo soletto Occhio a Love Flada Che in realtà problemi non ne dà E fa anche Beh Doppio rimbalzino With depressione Non è male Prossima clip Abbiamo Abbiamo un tiktok Crotto skip Con la canzone che di solito non promette niente di buono Ma per questa canzone Ma vediamo raga Spero non abbia il copyright Ma non credo Non può avere il copyright Un o no 3 skip luminoso Ecco Mi sa che trova Non trova nessun brawler Oh Oh Ma perché la musica? Volevano sentire la reazione pulita Il semino Prossima clip Mancano pochi secondi dalla fine Non so di chi sia Non so di cosa Di perché Ma credo che sia di questo Edgar Che in realtà Si No Veramente particolare sta clip Fa 27 rimbalzi la tara Davanti alla porta Partita conclusa Un bel fail In effetti Il titolo era Solo faccia arrabbiata Direi titolo azzeccato Prossima clip Abbiamo power pizza Ah beh vedi con Nita Ha già la ulti Se ne va Avanza come se nulla fosse Clip giocata in live Entra l'altro Ed è Un gol fatto di stun Ma in che senso raga Il frangoni tira sta Ma non ha senso Eh Bella per il frang allora Prossima clip raga Abbiamo da supreme Che ha una vala A tutto 16.000 coppia Allora mettiamo Una skin fortunata Che in questo caso Ok skin fortunata Questa è una strategia nuova Credo Oh No come niente 37 d'oro È uno scam Quindi qua I darà Qua I darà 6 skip Giusto così Con Ok La partenza Non è male Anzi meno male Che è abbastanza veloce Ad aprire le casse Non perde tempo 6 skip Stavamo dicendo Proprio che è veloce Non perde tempo Beh Ok 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 Vabbè come se avesse trovato Due mitici per ora Non è male Ma non è mica finita qua Oh Subito dopo Pr prossimo clip Abbiamo Fero Ah allora Ecco ecco Diciamo che c'è qualche problema tecnico Comunque lui Fa fuori Edgar Nel chilling più totale Anche la ulti Qui là sotto Con 12 power up Ammetto appunto Ammetto che un po' mi preoccupano Però se mi ha mandato la clip Secondo me riuscirà a fare robe incredibili Tant'è vero che sono rimasti I loro due Beh Mortis Non credo possa far più di tanto Però abbiamo il Colt Che con la ulti Tira bottazzi incredibili Ancora Niente Direi Ha fatto Con le sue due ulti Ha fatto i devasti Manca ancora Shelly Cioè Spike Nel chilling ragazzi Prossimo clip Abbiamo Nalid Nalid Che prende questa mega cassa Attenzione Aspetta la scritta Aprimi Classico Aspetta ancora un po' Per caricarla Il più possibile Effettivamente Abbiamo constatato Più e più volte Che funziona E se mi ha mandato la clip Evidentemente Trova 7 skip E infatti Aspettiamo anche un po' Sull'oro Perché l'oro Boosta il contenuto Più tempo Stiamo a guardare l'oro Più è probabile Trovare due leggendari Questa potrebbe essere La cassa degli dei Però secondo me Si è addormentato Sul tablet Perché Ok 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 Siamo partiti Eccoli qua Due skipettini Vediamo Dimmi che non è un Oh doppio brawler E io ho detto doppio leggendario Vabbè Epico E poi E poi un leggendario E poi energetico Doppio epico sarebbe Credo Vediamo Sarebbe doppio epico Vabbè Comunque Buono Prossimo clip Abbiamo Teopro Allora Ecco qua Ecco qua Rimane da solo Arrivano Colt e Brock Però mi sembra Abbastanza nel chilling Lui Poi a destra Esattamente E Beh di fatto Si sta comportando Molto bene Slalomizzo è una meraviglia GG per i due nemici Che stavano appiccicati Ottimo modo Per affrontare Colt E' tornato il boss opening Ma hai fatto apposta Abbiamo lo zio Federico Prassimo clip raga Stavo così per coprire il titolo Che non voglio Stai il brown lag Comunque dicevo E volevo Ma che è Ha rotto il gioco Attenzione E' tutto laggoso Api raga E l'ho aperta io Questa casa No raga Sono The Baller Un mitico leggendario Forse raga Questi boss opening Dei storie raga Siete api Ma raga ma Wow Mr. B Mr. B Eh Mr. B raga Credo che qua Potrebbe esplodere Qualora trovassi un leggendario Energetic E' uno scam Ma siamo sicuri Che non sia Quell'altra clip O è sempre lui Dopo vado a controllare Ah è vero Qua era la season 2 Quindi era un leggendario E cos'è sto boss opening Ah raga è troppo convinto Non è una reference O è lui O è la stessa clip Dell'altra volta Bella bro È un altro Procediamo Abbiamo Franch Franch Che gli ho Eh con Bibi Insomma si trova In quell'angoletto Solo soletto Effettivamente senza power up Non è che si è messo proprio bene Però in un qualche modo Qua Non ho capito Perché È successo Quel che è successo Fa anche fuori il colt Ragazzi ma Slalomization Incredibile Oh Che costante Prossimo clip Abbiamo Destroyer Mancano 7 secondi Dalla fine Attenzione Saltella Qua saltella La viene colpito Però quello Quell'altro Quell'altro Ancora Un secondo Dalla fine La palla Si ferma Sulla linea Prossimo clip Abbiamo Simo Che va nello shop Su inserisci codice E scrive Raxor Mette il mio codice Creatore Che non esiste Ma Con questo codice Creatore Che forse Tra qualche decennio Arriverà Potrebbe già avergli dato In anteprima Un po' di fortuna Diamo 6 skip Qualcosa c'è Ma in questi 6 skip Chi si nasconderà È un epico Un mitico Un leggendario Attenzione Codice Creatore Niente raga Il mio codice Mi sa che non Worka bene Non voglio leggere il titolo Porco Grazie ninja Seguite Raxor Seguite Raxor Seguite Raxor Seguite Raxor Seguite Raxor Seguite Raxor Prossima clip Abbiamo Ah raga Attenzione Eh beh Situazione Molto Molto Critica È lì solo Soletto È anche vero Che niente Vabbè Vabbè Prossima clip Abbiamo Giocone Attenzione Con Sandy Alla palla Alla ulti A tutto Ah doppio rimbalzino Così Vabbè In realtà Non è uno spot Troppo Non visto Però il fatto Che sia andato Proprio lì In quel barile Dopo rimbalzino Mi piace Prossima clip Abbiamo Peppe Andiamo a spacchettare Un pochettino Ok Andiamo a spacchettare Un pochettino Giusto Giusto Anch'io faccio così Perché giustamente Se poi apri tutto Non hai i contenuti Per i video successivi Quello è È il brawlag Dovete Abituare Giusto Giusto Bisogna Abituarci A vedere Le clip Laggare Quindi mi raccomando Abituatevi Che poi Arrivati a una certa Già oggi Non ho visto Un sacco di clip Così È fluido Con tutte quelle Che ho visto Posso dire Che mi sono abituato E adesso Vedo fluido 3 2 1 Mettete il volume piano Oddio 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 Non ci credo Non ci credo Ah ok Non ci credo Ambra 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 No Dovè Ambra Non ci posso Ok Ragga tutto È morto Il telefono Prossimo Come box opening Di nuovo Ma come Ma c'è il box opening day Ma Ma aveva 1100 coppe Ma come Vabbè in senso Che magari C'è la qua E non è l'altro account Principale Ragga Leon Su un account Di mille coppe Tora Tora E niente Tora Si Steve Jackie Vabbè Jackie Già ci sta Ragga Incredibile Ragga Su un account Di mille Di 1112 coppe 3 brawler Oh my god Ragga Ed era un box opening Poi Non un box opening Ragga Minimo 100 like E faremo un nuovo box opening Ciao 100.000 Per fare altri box opening E quindi raga Per l'episodio di oggi Direi che possa essere tutto Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Per quanto un bel like Con iscrizione e campanellina Eccola qua Che perdo sempre Noi come sempre Ci picchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo Grazie a tutti